A meno che a novembre e dicembre non ci siano dati drammatici, ma onestamente non credo, per la prima volta nel 2011 in provincia di Firenze supereremo i 12 milioni di pernottamenti. Va bene la città ma va molto bene anche la provincia e l'altro dato incoraggiante è che in provincia, non in città ancora, ma in provincia aumenta anche la permanenza media che poi è il nostro vero obiettivo perché noi non abbiamo bisogno di più turisti ma abbiamo bisogno di turisti che permangono più a lungo sul nostro territorio. In provincia questo sta accadendo. Cosa possono fare le amministrazioni, qui si parla di turismo veicolato attraverso internet, cosa possono fare per dare una mano perché si possa colmare un divario che comunque è ancora forte? Ma io penso che debbano mettersi con anche grande umiltà al centro di un sistema di relazioni fra le istituzioni, fra i vari enti che si occupano di promozione turistica, con i privati e giocare in squadra. La BTO è un esempio di gioco di squadra, terrazze con vista che abbiamo appena premiato è un esempio di gioco di squadra, il convention bureau, la promozione del turismo congressuale è un esempio di gioco di squadra e così via. Potrei andare avanti con molti esempi. Negli ultimi anni su questo territorio che è il territorio dei Guelfi e dei Ghibellini dove di solito si litiga e si fa polemica su tutto, forse anche a causa della crisi e della diminuzione delle risorse il pubblico e il privato hanno capito che solo condividendo obiettivi, strategie e risorse si può uscire dalla crisi che stiamo vivendo. Questo il pubblico deve fare. È un pubblico che ha sempre meno risorse e di conseguenza deve facilitare il gioco di squadra mettendosi anche fortemente in discussione.